Cosa dirà? Ho già incontrato il ministro Turco anche ieri al vertice anti-ISIS che abbiamo fatto a Roma e stiamo cercando una soluzione condivisa. Confida che si troverà una soluzione a breve perché Erdogan è stato abbastanza vocal. Stiamo parlando, pensiamo che la nostra volontà è trovare una soluzione condivisa. Abbiamo aperto tutti i canali diplomatici per arrivare a questa soluzione condivisa che speriamo in tempi brevi. Si aspetta un sostegno anche da parte della Nato nei negoziati con la Turchia per bloccare questa difenda? Stiamo lavorando su un piano bilaterale, i rapporti fra Italia e Turchia sono tradizionalmente buoni quindi pensiamo di poter lavorare su questo piano ragionando su canali diplomatici.